Se hai riscontrato problemi riguardo a Fortnite in questa nuova stagione che non si avvia, quindi non si avvia proprio il gioco su Epic Games, su PC, quindi se io adesso vado direttamente ad aprire il gioco, avvio, l'ho riuscito. Quindi in questo caso può essere che nella sua cartella mancano alcuni file, quindi in questo caso possiamo direttamente andare un attimo su Windows Defender per non far cancellare questi file perché certe volte Windows Defender elimina questi file e non lo fa poi, li elimina. Andiamo direttamente sulla sicurezza di Windows, protezione da virus e minacce, gestisci impostazioni e vai direttamente su aggiungi o rimuovi esclusioni. Facciamo aggiungi un'esclusione, facciamo cartella e andiamo direttamente a prendere la cartella di Fortnite. Selezioni così la cartella, così facendo Windows Defender non romperà più le scatole a Fortnite. Chiudiamo un attimo qua, ora andiamo direttamente sui tre pontini, facciamo gestisce e facciamo la verifica al gioco. Attentiamo. Prima di avviare il gioco chiudiamo un attimo Epic Games. Ogni volta che devi giocare a Fortnite, avvia Epic Games come amministratore. Dopodiché vai nella tua libreria e apri Fortnite. In esecuzione. L'errore avvio non è riuscito, non è uscito più, quindi Fortnite sta andando, inizializzazione, in corso ed è partito. Per altri problemi ancora puoi guardare le altre guide su Fortnite nella playlist in alto a destra nelle schede ci sono veramente tantissime guide su Fortnite su come risolvere tantissimi problemi su Fortnite. Quindi grazie a tutti per questa visione. Per altri problemi cercherò di realizzare altre guide a riguardo in futuro. Commenta sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.